in questo numero del salostigi la fotografia di pronto soccorso in italia attese anche fino a due giorni e spazi sovraffollati cuore sicuro ai musei vaticani 18 defibrillatori per i visitatori intramenia vale un miliardo 143 milioni ma i ricavi sono in calo lunghi tempi di attesa anche fino a due giorni sovraffollamento poco personale scarsa attenzione a dolore e mancata comunicazione con i pazienti questi risultati del monitoraggio dei pronto soccorso italiani effettuato dal tribunale per i diritti del malato e dalla società italiana della medicina di emergenza urgenza dal monitoraggio presentato a roma emerge una situazione molto disomogenea fra strutture del nord del centro e del sud anche all'interno di una stessa regione con differenze spesso sostanziali di organizzazione del servizio in base alla sua complessità pronto soccorso dea di primo o di secondo livello come sottolinea tonino aceti coordinatore nazionale del tribunale del malato cittadinanza attiva il pronto soccorso rappresenta per i cittadini un punto di riferimento irrinunciabile nel quale nutrono fiducia i musei vaticani non custodiranno solo splendide opere d'arte ma anche il cuore e la vita delle persone grazie al progetto custodiamo il tuo cuore realizzato dalla direzione dei musei e dall'ospedale pediatrico bambino gesù per tutelare la sicurezza dei turisti oltre 6 milioni l'anno sono infatti state installate ben 18 postazioni con defibrillatori automatici esterni e formati oltre 300 custodi vale un miliardo e 143 milioni di euro l'attività intramenia in italia secondo i dati al 2014 della relazione del ministero della salute al parlamento trasmessa alla camera una cifra in calo rispetto al 2010 ultimo anno del trend in crescita di questa attività quando il valore economico si attestava a 1,264 miliardi per una spesa pro capite di 21 euro l'anno contro i 19 euro del 2014 l'anno contro i 19 euro del 2014